Ciao! Gli appassionati di questo dolcetto lo sapranno sicuramente, ma il brownie che cos'è? Di fatto il brownie è una torta al cioccolato, base al cioccolato, con diverse caratteristiche, che però viene semplicemente tagliata in quadrotti. Il brownie è quello, è un dolcetto, è un bocconcino di torta al cioccolato. Naturalmente ha quella caratteristica un po' umida e commosa che è regalato dall'utilizzo di determinati zuccheri, come lo zucchero di canna.